Giuseppe Pilon, buonasera mister, vittoria importante ma direi soprattutto meritato, avete corso zero rischi in difesa e questa è un'altra bella notizia. Sì, siamo stati molto più compatti, più ordinati, giocavamo uno per l'altro, sempre giusti in campo, abbiamo concesso quasi zero, se non un tiro in porta nel primo tempo e nella seconda parte, nella parte finale, un tiro, insomma niente di che. Invece noi abbiamo avuto delle buone possibilità, specialmente nella ripresa e giustamente siamo passati in vantaggio. Aveva chiesto ai suoi ragazzi in settimana di voler rivedere la cattiveria dei bei tempi e oggi è stato accontentato. Sì, io voglio una squadra così, pratica, compatta, forse meno bella delle altre volte ma che poi alla fine raggiunge l'obiettivo perché poi alla fine conta il risultato e noi siamo misurati per i risultati. Nonostante il periodo opaco, il Pescara con questa vittoria è tornato al terzo posto, diceva Vincenzo Fiorillo, questa squadra ha subito critiche troppo pesanti, esagerate, d'accordo? Io le critiche le accetto perché faccio questo lavoro, so che quando le cose non va bene la critica viene sempre rivolta verso l'allenatore. Io credo che i giocatori hanno sempre dato il massimo, anche delle volte sbagliando partite, ma hanno sempre dato il massimo di quello che potevano dare. Perciò io credo che loro devono essere contenti dei ragazzi di quello che stanno facendo. Perciò dobbiamo migliorare, lo sappiamo, io accetto tutto quello, però chiaramente faccio l'allenatore, faccio le mie scelte e cerco sempre di farle in funzione e in bene per il Pescara. Leone andrà probabilmente via tra qualche ora, non sarà più il direttore sportivo del Pescara, con Repetto massima sintonia, lei lo conosce bene. E' stato Repetto a portare Pellona a Pescara, non dimentichiamolo. Sì, sì, io e Giorgio abbiamo un grande rapporto, questo è inutile nascondo, ma stavo bene anche con Leone, è una persona molto intelligente, che ha modo, non posso dire che sono stato bene anche con lui. Io credo che qui con i dirigenti, con tutti quelli che sono nel contorno, ho degli ottimi rapporti, perciò non posso chiedere di meglio perché mi hanno accettato bene tutti. E io con loro sto molto bene. Tornando al calcio giocato, quasi per chiudere, mister, ci è piaciuto molto l'approccio dei giocatori che sono entrati nel secondo tempo, Melegoni, Canutè, hanno fatto davvero molto bene. Hai detto bene, è questo quello che conta. Quando vedi dei giocatori che stanno in panchina e che poi entrano, entrano con quella verba e con quella voglia di portare a casa il risultato, è una bella cosa per noi, per la squadra e per tutti. Dobbiamo essere così tutti, al di là delle scelte che fa l'allenatore, che manda il primo in campo uno all'altro, ma dobbiamo sempre vivere e giocare per il Pescara, mettere davanti sempre il Pescara e il resto viene dopo. Il Venezia, la squadra della sua regione, le porta bene. Lo scorso anno con il pareggio del Penso il Pescara conquistò la salvezza senza passare per i play-out. Questa sera è arrivata una vittoria fondamentale. Sì, è stata una vittoria molto importante, non lo nego questo, ma bisogna dare continuità ai risultati a partire da domenica. Con Venezia sì, è andata bene quella partita molto sofferta, che quando me la ricordo ci penso ancora, perciò siamo stati bravi a passare quella partita e a salvarci direttamente e adesso dobbiamo continuare la nostra strada.